Arrivati, siamo arrivati al mare adesso, siamo prontissimo fronte mare, dietro di noi Royal Hotel Sanremo, struttura immensa, giardino immenso da quello che posso vedere da fuori, da quello che possiamo vedere da fuori, vedremo, noi fotograferemo lassù, non so se si vede nel video, sale, stanze, suite, quindi quanto più possibile, è immensa comunque la struttura da metteremo su, abbiamo un parcheggio riservato, vediamo, proviamo, vediamo dopo.